tutto pronto test match quarto test match di serata 15 ottobre 2024 la partita è quella tra le scimmialand contro il gin jaguar nuova compagine di questo circuito 25 se le dissi non lo sbordone lido affrontano scimmialand che hanno giocato in under mentre è arrivato un grandissimo gol di d'amelio subito l'uno a zero mi sono partiti subito col botto detto questo andiamo a leggere le formazioni partiamo prima dalla nuova compagine questo è capo chi c'è c'è il miglior portiere dell'ultima edizione quello quello ha vinto la coppa lo vedo bene poi attenzione la parata di borriello ancora poi pisaniello fortunato ancora viscovo lanza su di lui arrivano fortunato in mezzo ancora finta salvataggio sulla linea poi esposito spazzo carpentiero il sinistro palla fuori formando una nuova compagine creando forse un debito di sa meglio lancia esposito che non riesce di squadro palla la terra era attaccata al corpo lanza sigla il 2 a 0 viscovo senza bene palla affortunato canonico in porta paratona di borrello esposito non va perché c'è fortunato che anticipa poi va la piede passa vada canonico che se la porta in avanti palla trapani ancora trapani in mezzo borriello viscovo palla fortunato ancora fortunato finte porta livello a 1 di trapani l'aria aperta ancora viscovo canonico ad affortunato ottimo poi ancora trapani 2 a 2 la ripresa subito tra mani è giocatore fortunato in mezzo non riesce ad agganciarla forte colpisce la barriera poi il destro fortunato vallonetto c'è da a giro al prossimo a filandese carpentiere ottimo quasi trapani che che ha combinato limite valla a carpentiere che tente in porta poi c'è fortunato aggancio rimasta la riscola signore dice qualche tempo come raga va bene dai o venite qua dai questo secondo tempo tra gin jaguar e scimmianello bravi il 3 a 2 vada controllo che tenta sinistra palla e mezzo il sinistro palla fuori c'è Antonio c'è Antonio Antonio la porta è vuota ancora dei forti bravo ci va la carpentiere non è senza bene palla affortunato 3 a 3 vada in buca è fortissimo 4 a 3 gran gol combinato da meno bella parata può nel mezzo posito arriva il gol di barone l'ha fatto questa ragazza qua amelio paratona fortis d'amelio scoperto adesso di già guarda palla a marco lanza che può calciare riscobro fortunato ancora fortunato calci a borriello carpentino tra bani a giro borriello ancora lo no c'è ancora attenzione pasticcio tra bani ancora tra bani ma l'unissima aggancio di marco ancora lanza può calciare col sinistro d'avanzo da zero metri il sinistro vuol di trapani con le mezzo antici ad avanti marco lanza apre attenzione mischia poi riesce ad uscire viscovo barone ancora di squadro viscovo a fettino arpentiero autogol di deportis e arriva il 5 a 5 non mollano i gin jaguar palla a trapani b squadro trapani ancora trapani destro finisce qua risultato in perfetta parità 5 a 5 qua alla fine di questa partita una bellissima partita infatti il risultato che dice questo 5 a 5 partiamo di prima date fortunato squadra nuova ho detto di stacchi dal boca di max e passi in major che stagione vuoi affrontare siamo una squadra nuova quindi abbiamo tanto da costruire siamo tutti giocatori giovani che quasi tutto non abbiamo mai giocato insieme quindi piano piano cresceremo faremo un buon campionato quindi faremo adesso la partita di oggi molti gol però come avete fatti abbiamo anche subito dietro abbiamo un po' da sistemare qualcosina abbiamo un po' da sistemare dietro davanti dobbiamo capire un attimo l'intesa fra di noi come ho detto non abbiamo giocato tanto insieme quindi pian piano squadra per squadra che c'è ok grazie fortunato in bocca al lupo andiamo adesso l'acqua chiara vada amelio allora invece per voi come la minacca voi invece stagione scorsa posizionati in quarta posizione per poco non avete raggiunto la champions che stagione adesso affrontare tu ci volete divertire questo volete andiamo qua giochiamo ci divertiamo non ci avete una buona punta avete provato brandy oggi abbiamo provato brandy come è andato defendo dietro può giocare tutta la stagione davanti assolutamente e dietro avete voglio fare una dichiarazione posso? una dichiarazione posso? posso farlo? sono l'ultimo guardi così non credo eh non vorrei abbandonare le scimmie ma forse lo farò se lo farò tornerò perchè questa è la mia squadra siamo forti quest'anno e vinceremo dai vieni qua dopo lo picchi allora dicendo questo ti salutiamo così in bocca al lupo per in bocca al lupo grazie ad amelio ciao ragazzi salutiamo barone salutiamo barone il fantacalcio vai come cazzo si fa così Marco guarda a terra buon anno domingo buon anno domingo buon anno domingo Grazie.